Amici di Calciapasso buongiorno terminato il calciomercato in maniera ufficiale andiamo a dare i voti a Gianluca Petraghi io ho suddiviso due colonne mercato in entrata e mercato in uscita do il voto al singolo calciatore al singolo acquisto o alla singola cessione e poi divido faccio la somma e divido per il numero dei calciatori così viene proprio il voto esatto al centesimo teniamo presente una cosa oggi è molto più difficile orientarsi tra tutte queste tipologie dei contratti una volta quando ero piccolo io c'era l'acquisizione a titolo definitivo e il prestito con diritto non esisteva l'obbligo quando ero piccolo io e la comproprietà basta tre cose ti orientavi molto bene oggi tutta una serie dei calci e il prestito con il riscatto al raggiungimento degli obiettivi non ci ho messo questo dentro ai voti perché altrimenti diventavo stupido ho analizzato proprio la singola operazione allora iniziamo con Paolo Lopez credo che sia ho letto che è il portiere più costoso della storia della Roma non stiamo parlando di un titolare nazionale ma stiamo parlando comunque di un buon portiere che è molto efficace per il gioco di Fonseca all'occorrenza sa fare anche il libero e mi sembra che comunque in questo inizio di stagione si sia disimpegnato abbastanza bene soprattutto nel derby ha fatto un paio di parate veramente importanti io do sette come voto Gianluca Mancini allora Gianluca Mancini io darei un sei e mezzo comunque uno dei protagonisti della cavalcata dell'Atalanta in Champions League la perplessità è che non sia un giocatore proprio adattissimo al gioco di Fonseca che potrebbe avere delle difficoltà ed in effetti comunque in queste due prime giornate qualche difficoltà si è vista il derby non è stato proprio malaccio però comunque in qualche occasione si è visto che questi giocatori entrano con troppa facilità e lui è uno dei due centrali qualche colpa gliela devo dare per forza la do anche al centrocampo che fa poco filtro tra l'altro sul gol di Kwame c'era lui in marcatura parlo di Roma Genoa per cui io do un sei e mezzo un sei e mezzo destima il mezzo punto è destima Spinazzola allora Spinazzola do un mezzo punto in meno do un sette ma do un mezzo punto in meno perché ho delle perplessità a livello fisico le stesse perplessità che do a Zappacosta a cui do un sette sarebbe potuto essere un sette e mezzo a Smalling invece do proprio un sette e mezzo do un sette e mezzo perché io lo vedo un acquisto alla Rudiger per capisse comunque è un giocatore che come abbiamo detto più volte nei giorni scorsi ha più di duecento presenze al Manchester United per cui proprio una pippa non deve essere se poi io qua diventa una pippa e vabbè siamo abituati comunque ho solo qualche piccola perplessità sull'adattamento dei giocatori inglesi al campionato italiano perché storicamente dice questo a parte ne sono venuti pochi per cui comunque do un sette e mezzo Mert Cetin Cetin? io sempre mi ricordo vabbè qua mi sono scritto Cetin comunque senza chiamare Cetin non mi ricordo Mert sicuramente do un sei comunque è una scommessa non credo che faccia il titolare dovrebbe essere il giocatore più veloce della difesa quindi staremo a vedere do un sei anche a Diavara do un sei anche a Diavara e il mezzo punto in meno gli vale dal fatto che comunque mi sembra che nelle gerarchie dei Fonseca sia finito dietro a Cristante e Pellegrini che non essendo gente di ruolo comunque cioè tu sei il vero mediano di tutta sta situazione Cristante e Pellegrini sono adattati lì ma non sono mediani quindi se tu che sei venuto tra virgolette per far titolare non mi sei titolare mezzo punto te lo tolgo comunque poi un'operazione secondo me troppo costosa per quello che è il reale valore del calciatore per cui don't say a vero e tu do un otto do un otto perché secondo me insieme a Mkhitaryan è il fiore all'occhiello di questa campagna acquisti spero di vederlo al più presto perché secondo me invece lui in quella posizione di mediana può essere molto ma molto utile anche perché oltre alla visione del gioco c'è anche un certo temperamento cioè quando entra comunque se fa sentire Mkhitaryan do otto e mezzo è l'elemento più importante insomma di questo calciomercato per curriculum per classe per tutto e Kalinic do un sei e mezzo e il mezzo punto in più è per la stima che nutrivo in lui quando stava alla Fiorentina cioè comunque mi piaceva veramente tanto credo che essere centravanti è un po' come Anna in bicicletta una volta che ti sei imparato non dimentichi puoi avere qualche periodo d'appannamento però secondo me lui il fiuto del gol c'è là il colpo di testa c'è là l'attacco della profondità c'è là per cui vediamo poi comunque è un'operazione per la panchina al posto del gioco secondo me aveva un Kalinic in panchina mi dà molta più sicurezza che aveva uno chic ok quindi allora tutti questi voti qui che sono dieci quelli della campagna acquisti sommati e divisi per dieci fa sette quindi la somma di questi voti che vi ho detto è settanta diviso dieci è sette per quanto riguarda le cessioni qui sarà un molto più rapido e sbrigativo dalla chic ho dato un sette per la cessione da quello che leggevo ecco poi aiutatemi un attimo perché io divento stupido proprio con questi comunicati da quello che leggevo è cinque mo e ieri ho letto venti obbligo di riscatto poi qualcuno stamattina mi ha scritto ventinove poi qualcun altro invece mi ha scritto che non è obbligo ma è al raggiungimento della champions league però qualcun altro mi ha scritto che l'ipsia stand è talmente forte che te pare che non va in champions league insomma io non ci ho capito una mazza e non me ne frega manco di capire l'importante è che non lo vedo più gonadons via sette olsen via sette e mezzo defrell via sette cioric via sei nzonzi via otto importante se siamo levati un ingaggio di quelli importanti gerson via sette e il sherawi via cinque via cinque perché comunque uno io ne avrei metato via due se proprio che succede qua due se proprio lo devo dare via diciotto mi sono sembrati un po' pochi però diceva che è dovuto comunque ai contratti eccetera sti cazzi io devo giudicare l'operazione per me uno dal vadove del sherawi diciotto è poco Ponce sei Luca Pellegrini sette comunque lì hai fatto anche una bella plus valenza ma non lasse cinque ma non lasse cinque perché sì è vero c'è stava la clausola quindi non è che lo potevi c'è da più dalla clausola però come ripeto come ho sempre ripetuto secondo me Diavarà è il pacco che t'hanno fatto a Napoli inserito nella stessa operazione a voglia di che so due operazioni diverse fa parte della stessa operazione ha dovuto pagare Diavarà un botto secondo me rispetto al suo rete valore quindi chiaramente mi scende pure il valore perché se tu mi dai tutta la clausola poi decido io chi cazzo andammo a comprare ok perché probabilmente come dicevo nei video precedenti un pulgar sarebbe stato più efficace secondo me in quel ruolo va bene ragazzi io ho terminato quindi vabbè la media di questi voti qui che sono 11 cessioni la media la somma diviso 11 fa 6 e 59 quindi voto per il mercato in entrata 7 voto per il mercato in uscita 6 e 59 purtroppo Escherau e Manolas hanno abbassato la media se no sarebbe stato molto più alto il voto perché comunque se è riuscito sei riuscito a cedere tutti questi polmoni che c'avevi in squadra non era un'operazione facile ripeto è molto più difficile secondo me cedere che acquistare per cui complimenti a Petraghi alla fine 6 e 59 6 e 60 dai siamo più prossimi a 7 gli voglio pure regalare qualcosa in più perché comunque si è insediato tardi ha iniziato a lavorare tardi per la Roma quindi poi il vero lavoro di Petraghi secondo me lo vediamo l'anno prossimo perché lui inizierà a muoversi già adesso per il prossimo mercato magari già a gennaio vedremo qualche cosa quindi qualche attenuante la voglio dare abbiamo dato due anni a Monci che ci ha rovinato che ha fatto più d'anni dalla grandine non vogliamo dare almeno un anno a Petraghi direi di sì qualcuno ieri mi diceva però in quel ruolo che lui ha preso che servivano due mediani ha preso solo Diavara allora io sono anche d'accordo con te infatti a Diavara operazione gli ho dato 6 se però Fonseca mi schiera e credo che sia anche la sua attitudine perché lo ha fatto anche con Pastore in precampionato mi schiera dei non mediani nel ruolo del mediano evidentemente ci avrà qualche idea del gioco più improntata alla costruzione che alla tamponatura infatti si vedono anche i risultati ma non lo so penso spero che prima o poi si dia una maglia del titolare a Veretù penso già dalla prossima perché basta rotta il cazzo insomma che Veretù deve giocare e poi c'è questa posizione dei Mkhitaryan che si effettivamente può occupare anche il posto dei Perotti io ieri ho lanciato una provocazione non è stata accolta però secondo me per quelle che sono le sue caratteristiche un centrocampista completo sia in costruzione sia in interdizione non mi sorprenderei non mi sorprenderei se lo provasse qualche volta anche Mediano perché tu comunque con una coppia Mkhitaryan avresti un centrocampo della Madonna a mio avviso comunque ragazzi scrivetemi sotto i commenti se siete d'accordo con i miei voti se avreste dato qualcosa in più in meno magari ecco fate proprio la lista come l'ho fatta io singolo giocatore voto singolo giocatore cessione voto e poi vediamo quanto vi esce a voi anzi il calcolo fatevelo fra di voi non mi chiedete di calcolare a me i voti vostri ok perché se gira sta cazzo di teleca un saluto e sempre caccio paccio